Quante volte in televisione abbiamo apprezzato i programmi di Piero Angela che così tanta cultura elargivano dietro semplici immagini e dalle quali esplodeva cotanta bellezza nell'imparare. Massimo Polidoro, l'allievo che nel corso di 30 anni ha interrogato il maestro Piero Angela stimolandolo con le sue domande circa l'universo, la natura e l'uomo, è stato ospite nel Teatro Traetta il 17 aprile scorso per presentare l'ultimo libro La Meraviglia del Tutto. Una vera e propria lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell'uomo e nel quale ogni capitolo apre una porta nuova, ti dà la possibilità di dare uno sguardo sulle porte successive, fermo restando la grande capacità narrativa di Piero Angela che cattura la curiosità nel lettore e lo trascina nell'affascinante avventura della conoscenza. Una bellissima serata pregna di cultura, di aneddoti e di curiosità che ha soddisfatto i palati fini e non solo delle persone presenti in sala. Noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di intervistare l'autore Massimo Polidoro. la sua straordinaria curiosità e questo libro che abbiamo realizzato insieme da una sua idea, da un suo progetto, da un suo desiderio per me è stato un viaggio meraviglioso, emozionante e penso che sia così anche per chi lo legge, almeno le reazioni che ho dalle persone che lo hanno letto e che lo stanno leggendo sono proprio queste, cioè un viaggio nei pensieri e nei ragionamenti di una persona che per tutti noi è di famiglia, alla fine Piero Angela è stato nelle nostre case per così tanto tempo che sembrava uno un parente, una per tutti. Ho avuto questa fortuna di conoscerlo per tutta la mia vita da adulto, da quando avevo 18 anni e quindi condividere con lui questo suo ultimo progetto è stato molto emozionante. Quanto è importante fare divulgazione scientifica al giorno d'oggi? Oggi più che mai è importante perché viviamo in una società che è scientifica, tecnologica, ma non la capiamo e se non la capiamo rischiamo di avere delle reazioni, di fare delle scelte, di arrivare a delle conclusioni sbagliate perché non abbiamo gli strumenti per prenderle in maniera corretta. Quindi la divulgazione ci aiuta invece a capire meglio che cos'è la scienza, che cos'è la tecnologia e in che modo possiamo servircene per migliorare la vita delle persone e non per complicarla. Il messaggio di Piero Angela che più ti ha segnato è quello che vuoi lasciare a chi ci sta ascoltando. Il messaggio, l'insegnamento più grande se vogliamo che mi ha sempre trasmesso dal momento in cui l'ho conosciuto fino a quando l'ho salutato l'ultima volta è sempre stato di una curiosità sconfinata per tutto quello che ci circonda, per noi, per il mondo, per il cosmo, per farsi domande sempre, mai stancarsi. Lui è arrivato alla sua età veramente pieno di curiosità, di domande, voler sapere sempre, non fermarsi mai, non accontentarsi, non sedersi perché ogni cosa che si scopre, si capisce, ci amplia la mente, ci arricchisce, ci permettere anche di capire meglio gli altri. E quindi questo spero che sia il messaggio e l'insegnamento se vogliamo che Piero lascia non solo a me ma a tutti quanti.